Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si intitola Inside a Starfield Sky. Questo gioco era nella mia lista dei desideri di Steam e nel mio elenco delle recensioni mai fatte da tantissimo tempo nonostante fosse un titolo credo importante nel panorama della generazione procedurale, anche se poco conosciuto e recensito da nessuno in YouTube Italia. Ma cosa rende, a mio parere, questo gioco della grafica molto retro importante per questa rubrica? Beh, guardatelo bene. Questo gioco è una celebrazione delle immagini frattali e della matematica frattale, base di gran parte dei sistemi che creano mappe casuali nei giochi procedurali, dai vecchi titoli per floppy degli anni 80 fino al più recente No Man's Sky. Questo titolo dal punto di vista del gameplay può sembrare un semplice sparatutto in 2D, ma ad un occhio un po' più attento quello che si vede è una vera e propria standing ovation del concetto di autosimilarità. Quando si parla di immagini frattali, per autosimilarità si intende quello che vedete ora a schermo per il frattale di Mandelbrot, e cioè che ingrandendo l'immagine si osserva a ogni successivo ingrandimento una somiglianza visiva con il livello precedente. In questo gioco questo effetto è diciamo, imitato specularmente, in quanto passando da un livello di gioco all'altro ci si accorge che il livello successivo, fra virgolette, contiene l'avatar del livello precedente, in una successione infinita di livelli che non ha mai fine, proprio come i possibili ingrandimenti di un'immagine frattale. In pratica se raggiungete l'uscita passerete a giocare con la prossima iterazione del vostro avatar che dovrà districarsi in un livello più difficile armato con i perk guadagnati nel labirinto precedente, mentre se morirete tornerete al livello inferiore di difficoltà minore. Questo gioco non ha obiettivi definiti se non cercare di raggiungere un livello sempre più alto e più impegnativo. Ma le analogie con i frattali non sono finite qui, e, ancora una volta, si incastrano perfettamente col gameplay. Vi potrebbe infatti capitare di fronteggiare un labirinto troppo difficile da superare, tuttavia c'è sempre un modo per uscirne. Come per un'immagine frattale, dove posso decidere quale punto ingrandire di volta in volta, anche in questo gioco infatti non necessariamente sono obbligato a muovermi in una sola direzione. Posso ad esempio provare ad ingrandire uno dei potenziamenti sparsi nella mappa. Raccogliendo perk all'interno di un potenziamento infatti finirò per modificarlo e migliorarlo, in modo che, una volta ritornato nel livello dove questo si trova e ottenuto, possa avere un effetto molto più potente. Se faccio più volte questo giochitto, entrando in un potenziamento dentro un potenziamento, l'effetto finale sarà ancora più potente, ma il livello bonus da affrontare per riuscire nell'impresa incrementerà man mano in difficoltà. Un nemico è troppo forte. Niente paura. Utilizzando lo stesso stratagemma potete entrare al suo interno e modificarlo. Se riuscirete ad uscire dal suo labirinto dopo aver raccolto dei perk al suo interno, riuscirete ad indebolirlo in modo da riuscire ad ucciderlo o a girarlo. Difetti di questo titolo? Sebbene come avrete capito questo gioco è interessante sia dal punto di vista del gameplay, un po' diverso dal solito ed originale, sia dal punto di vista matematico e filosofico, in particolare per come raffigura i concetti di autosimilarità e, volendo, anche di definizione dell'io del protagonista, ho trovato una cosa che potrebbe allontanare chi non è proprio appassionato a questi concetti. La mancanza di un sistema di reset semplice nel caso vogliate reiniziare il gioco dal livello 0. Per resettare il titolo infatti non basterà disinstallarlo, ma dovrete cancellare anche tutti i files che il gioco lascia nella cartella di Steam, oppure limitarvi a cancellare il file bookmark.ini dentro la cartella settings. Altro problema per qualcuno potrebbe anche essere la mancanza di una versione per Linux. In conclusione, ritengo questo un titolo interessante per quelle persone che cercano un gameplay originale e difficile, oltre che per chiunque sia appassionato di generazione procedurale e della filosofia che c'è dietro, dato che ogni elemento di questo titolo, compresa la musica, è generato proceduralmente. Non consiglio invece questo gioco a chi non sopporta la grafica retro, o a chi vuole un obiettivo definito da conseguire. Questo titolo affronta come abbiamo visto lo stile classico di generazione procedurale applicato al gaming, e lo esalta fino al livello del gameplay, ma nel prossimo episodio di questa rubrica parleremo invece di una metodica molto più attuale che, oltre a essere davvero impressionante ed innovativa, sta facendo molto discutere. Arrivederci alla prossima.